Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere un nuovo gioco. Come vedete è la casa di Peppa Pig, con naturalmente vari personaggi. Infatti abbiamo Peppa, suo fratello George e i genitori. E la casa è fatta con questa forma appunto di triangolo, con una maniglia perché può essere portata anche in giro. È un kit per bambini dai 18 mesi in su. Vedete? Ed è prodotto dalla Little Characters. Vedete qui dietro? Ci sono anche disegni appunto di Peppa con tutta la famiglia sulla macchina. E naturalmente ora proviamo a aprirlo e a vedere com'è all'interno. Ecco qua i personaggi. Vedete il papà? Con questa panciona così grossa. E naturalmente la barba, i baffi. E vedete con questo piedistallo la figura si può muovere in questa maniera. Quindi può spostarsi su e giù. Questa è invece la mamma naturalmente. Anche lei che si può spostare in questa direzione. Poi c'è la nostra amica Peppa, col suo vestitino rosso. E vedete? Anche lei si muove così. E poi c'è George, col suo bel coccodrillo. E anche lui si può muovere in questa posizione. Poi abbiamo le scale per poter naturalmente entrare in casa. Ed ecco qui la casa che si apre in questa maniera sul lato, come vedete. E ora apriamo il tutto. Vediamo appunto, come vi dicevo prima, c'è questa maniglia. Che può essere attaccata sul tetto per poter portare nella nostra casa dovunque vogliamo. Ecco qui. Vedete? E poi abbiamo questi pezzi. Apriamoli insieme, vediamo che c'è. Questo sembra proprio un letto. Ecco qua. Vedete? Con i cuscini. Per Peppa e suo fratellino. E c'è anche la vasca da bagno. E vedo che c'è anche un altro pacchetto. Ah, avete visto? Questo è il bagno. Quindi posso mettere la vasca al suo posto. E questo pacchetto lo apriamo anche qui insieme. E stavolta troviamo una bella poltrona. Che possiamo mettere qui in basso. Vediamo, mettiamo il letto appunto qua sopra. Un'camera da letto. Un altro divano. La televisione. Vedete? E poi? Tanti altri piccoli pezzetti in un altro sacchetto. Ah, e qui c'è una scala. Direi che la scala appartiene ancora al nostro letto. Eh sì, vedete qua? Così che Peppa e George possano salire anche a secondo piano. e la mettiamo così. Up! No. Volevo cercare di farla aprire un po'. Au! Ecco qua. Ora è fissata. Ecco. E se la lasciamo così, la casa è stabile. E in questo piccolo altro pacchetto, come vi dicevo, c'è invece il tavolo. Ecco qua, vedete? Per la cucina. E delle sedie. Naturalmente sono quattro sedie per tutta la famiglia. La scala la mettiamo sul lato, che così possano salire a primo piano. E ora abbiamo tanti tanti adesivi da poter attaccare per decorare la nostra casa. Vedete? Questo in realtà è anche una specie di piano che possiamo utilizzare come pavimento. Come ne vedete? Così abbiamo il pavimento per la cucina, dove tutta la famiglia è seduta, pronta per mangiare. Poi abbiamo il pavimento giallo per la sala, con il divano naturalmente, e la poltrona. E così possiamo salire con la scala a secondo piano, dove abbiamo il bagno e la camera da letto. Carino, eh? Vedete? Con un pezzo di carta, semplicemente, sono riusciti a organizzare tutti i vari piani e tutti i pavimenti per ogni stanza. Vedete? In maniera diversa. Se vedete sulla destra, c'è anche un angolino verde, ed è quello che sarà appunto il nostro giardino. Come vi dicevo prima, il kit è per bambini per 18 mesi in su, perché i pezzetti non sono così piccoli, ma naturalmente qualcosa c'è. Spero che questo video vi sia servito, vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto quali sono i vostri commenti, naturalmente continuate a seguirci e fatemi sapere cosa ne pensate. Io credo che sia molto carino e con pochi tocchi hanno reso questa casa veramente bella. Naturalmente non vedo l'ora di leggere quello che voi ne pensate. E continuate a seguirci, abbonatevi al nostro canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao!